Se fosse una cosa davvero brutta, una di quelle cose che ti cambiano completamente la vita, non le parli tu. Per una volta nella vita sarebbe più facile se tu scegliessi di non andare ad indagare cosa sta cambiando dentro di te. Io non lo voglio sapere. Pronto? Sì, sono io. Sì, la voglio sapere. Subito, certo, arrivo. Il tempo di mettermi le scarpe vengo, grazie. Tu! Così con questo dubbio io non posso più andare avanti. No, 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 Michele e la dottoressa sono secondi, giorni, settimane che ci penso. E penso a tutto quello che potrebbe essere. E tutto questo? Mi limita fortemente. Che non ci accontentiamo mai! in questa vita schifosa, dove tutto quello che vuoi non puoi averlo, tutto quello che ha non puoi averlo, e mi senti tanto dritto, sguardo, passo, sicuro di tutto, anzi, solo di te stessa, sicuro. perché tanto tutto il resto è un grande punto interrogativo e tu non puoi non puoi, 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 non puoi! Io vorrei una... C'è tanta scelta, ce n'è troppo gli sposi, guarda qua. Cioccolato, cioccolato all'arancia, cioccolato fondente, bacio, crema, caffè, stracciatella, Kinder Bueno, Kinder Paredes, Kinder Pinguin, meta, meringa, puffo, pistacchio, pistacchioso, creme caramel, cannella, nona mia, banana, fragola, yogurt, cocco, mango, frutto della passione, nutellone, limone, ma che caro! Mi scusi! Ma sono cose che si fanno queste! Grazie per la visione!